Intanto sono stati superati i primi 4.000 euro, primi contributi raccolti per avvicinare l'ambizioso traguardo dei 67.000 euro necessari alla realizzazione del primo race in team animalista d'Italia attraverso la campagna di crowdfunding partita il 18 gennaio. Un progetto presentato dal pilota animalista Giacomo Lucchetti lo scorso sabato a Villa Viralfiore, volto alla creazione di una struttura che veicoli un cambio di mentalità sulla sensibilità verso gli animali bisognosi attraverso un contesto molto particolare come quello motoristico. L'obiettivo è realizzare una struttura tecnica che opera i 365 giorni l'anno in aiuto degli animali bisognosi con missioni di soccorso presso rifugio e centri di recupero ospitanti animali in difficoltà oltre a campagne di sensibilizzazione verso raccolte alimentari presso circuiti, piazze e centri commerciali nazionali. Il tutto assieme ad una squadra corse di alto livello composta da moto, furgone, box e stand hospitality. L'obiettivo economico è molto ambizioso perché dall'acquisto del furgone all'acquisto della struttura che sarà sempre presente durante le campagne di sensibilizzazione e le raccolte alimentari fino ad una nuova moto su cui posizionare tutte le campagne di sensibilizzazione in tutti i circuiti in cui andremo a correre. Quindi portare l'attenzione di tanti appassionati di moto verso una tematica animalista che oggi come oggi purtroppo segna ancora dei numeri disastrosi specialmente purtroppo al sud Italia. Sono state oltre 50 le missioni di soccorso che abbiamo svolto fino ad oggi e purtroppo se le amministrazioni locali non si sveglieranno purtroppo questa tematica difficilmente andrà a spegnersi. Per aiutare a creare il primo race in team animalista d'Italia si può donare accedendo al portale appela.com e recapitare il proprio contributo registrandosi in modo semplice. Appela è facilmente raggiungibile anche dal link presente nel sito cuore in corsa registrandosi e cliccando contribuisci per poi scegliere importo e metodo di pagamento e infine procedere con effetto a donazione. Ogni livello di importo sarà contraccambiato da una ricompensa di cuore in corsa. Il crowdfunding si concluderà il 28 febbraio.